Salve a tutti fratelli e sorelle, benvenuti nel nuovo appuntamento di avvisi, notifiche, programmazioni di oggi, giovedì 25 luglio 2019. Dio vi benedica e sia lo dato Gesù Cristo e Ave Maria, e sia fatta la volontà di Nostro Signore. Come vedete dalla programmazione, sempre se Dio vuole, sempre se il Signore permette, faremo questo tipo di programmazione. Coroncina della Dina Misericordia alle ore 14.45 live, live notizie alle ore 16.45 e live meditando alle ore circa 22. Sempre se Dio vuole, ovviamente questa è la programmazione della giornata di oggi, sempre se il Signore desidera questo. Dio vi benedica, sia lo dato Gesù Cristo, Santa giornata e Ave Maria.